Settima edizione di Vintage Event, Sassoferrato, capitale degli anni 70 e 80. Quali sono i punti di forza del programma 2014? Allora il programma 2014 sta prendendo sempre più piede e diciamo che quest'anno puntiamo soprattutto sul discorso di collaborazione con altre organizzazioni tipo l'Expo Marche, quindi stiamo allestendo una fiera intitolata Viaggio nella moda del vintage e degli accessori e puntiamo soprattutto anche sul look, quindi la gente che si veste a tema ogni sera eccetera e diciamo cerchiamo anche di far divertire la gente soprattutto con il discorso della musica degli anni 70 e 80. Cos'altro propone questa sei giorni di maratona? Che ruolo avrà Sassoferrato e dove si svolgeranno questi eventi? Allora la manifestazione si svolge in un parco all'aperto bellissimo intitolato Rocca di Albornoz e la maratona propone diciamo un po' tutto quello che riguarda la moda degli anni 70 e 80, il divertimento, la voglia di ballare e il far conoscere anche il nostro territorio e la nostra zona diciamo per far rivivere un po' il periodo degli anni 70 e 80 che comunque era un periodo bellissimo.